Siamo alla seconda puntata di questo ciclo, di questi tre incontri con una grandissima scrittrice, tanto di più. Il circolo ha negli ultimi due anni avviato dei progetti di recupero, rilettura di grandi scrittori. Il primo è stato Carlo Levi, il secondo è stato Alberto Moravia. Ora Natalia è altro perché non abbiamo mai smesso di leggerla. Ritrovarla, ritrovare la sua voce significa in fondo giorno per giorno stare insieme a lei e ricevere il dono della sua scrittura. Io adesso sto scrivendo un romanzo e non mi chiedo più affatto perché né per chi lo scrivo. Problemi di questo genere adesso mi lasciano in pace, siamo nel 1946. Prima invece mi tormentavo per tante cose e molte volte, camminando per strada, mi sentivo non una persona ma una vera matassa di problemi. A noi altri scrittori ci va male quando non scriviamo, è un disastro. Poi un giorno ripigliamo a scrivere, non si sa come. Sapere per chi scrivere è importante perché vuol dire anche sapere per chi pensare e parlare, vuol dire non sentirsi tanto soli quando si va per strada. Scomprire una piccola scintilla di vita in ogni uomo che incontriamo. Una piccola scintilla di vita in ognuno e poi allora si sa per chi scrivere. E se uno è uno scrittore ripiglia a scrivere, a inventare persone e storie. Se prima ripiglia a scrivere poi scopri la scintilla o il contrario non lo so, non mi ricordo più come succede. Tutto a un tratto vanno meglio le cose. Tutto a un tratto si smette di sputare problemi. E allora uno comincia a pensare che se anche non sa fare le valigie non importa, magari a poco a poco imparerà. Uno a un tratto vede chiaro e lontano, gli pare perfino di sapere come è fatta una nave. Va per la strada e guarda gli uomini e le donne e si sente simile agli altri, tanto simile che potrebbe mettersi a parlare col primo che passa. Troverebbe subito questa scintilla segreta, quel punto acceso dove un uomo è vero, vivo e uguale proprio a tutti gli altri. E allora certo non c'è più da chiedersi per chi si scrivano i libri, né per chi ha bisogno, per chi ne ha bisogno tra gli uomini. Bisogno o non bisogno si scrivono, si chiudono gli occhi e si vedono scintilla e scintille, un vero fuoco acceso, caldo e allegro che divora problemi e risposte. Succede così, scrive Natalia. E oggi siamo qui a chiacchierarne con due scrittrici, Beatrice Salvioni, Generazione X, Z, io non mi ricordo più come sta l'alfabeto, e Lisa Ginzburg, il cui nuovo romanzo esce proprio oggi, quindi in bocca al lupo. e io farò come dire da introduzione, cercherò di darvi il là su tutto questo e partirò riprendendo il filo dell'incontro precedente in cui la troupe che sta rappresentando due testi teatrali di Natalia qui al Carignano, che è uno spettacolo meraviglioso, è venuta qui a raccontare le proprie sensazioni, impressioni, il divertimento e la fatica di raccontarla sul palco del teatro, ma soprattutto il divertimento. Un po' di fatica e tanto divertimento. E Valerio Binasco diceva che i grandi scrittori sono maestri di recitazione e lei lo è stato, lo è per tutti loro e questo per spiegare la facilità nel recitare le sue parole e accennava anche l'idea della scrittura di Natalia Ginzburg come pensiero musicale. E questo mi ha riportato a quanto invece scrive Cesare Garboli nell'introduzione al primo dei, anzi a tutti e due i meridiani della sua opera in cui dice che Natalia, che pure non era appassionata di musica, mi dicono, aveva un'idea del romanzo, cito, molto musicale eppure silenziosa. Nel segreto di questo apparente paradosso tra musica e silenzio sta anche la grandezza della sua prosa, una prosa capace, cito ancora Garboli di far muovere il tempo dell'immobilità. Ma quello che mi stupisce, stupisce e continua a stupire, io credo, qualunque lettrice o lettore che si avvicina alla sua opera è la multiformità, la capacità di depositare sulla pagina una gamma di generi letterari straordinaria e con una leggerezza e dimestichezza con la pagina, prima con la pagina bianca che richiede, la pagina bianca è una storia a sé, ma poi anche con la pagina, la propria pagina scritta davvero straordinaria. Io vorrei dedicare ancora due parole in particolare ad alcuni suoi saggi brevi perché ne ha scritti veramente tanti, articoli, saggi, divagazioni, memorie, nostalgie, racconti che sono racconti ma anche qualcosa di diverso. C'è ad esempio il saggio che dà il titolo alle piccole virtù che è un saggio sull'educazione, su che cosa raccontiamo, che cosa attacciamo ai nostri figli e nipoti, che fa pensare, che destabilizza chi lo legge e soprattutto chi lo legge avendo dei figli secondo me ed è la missione più grande che possa fare un saggio sull'educazione, quella di destabilizzare chi si sta dedicando a questo mestiere. In particolare ci dice una cosa molto scomoda, cioè che dobbiamo essere pronti a raccontare ai nostri figli anche l'ingiustizia, che è una parte del mondo purtroppo ineludibile, è così attuale, ma attuale è una parola molto riduttiva per quello che lei scrive, sempre, sempre, non si può definire attuale, è l'immortalità della pagina e usiamola pure questo sostantivo con l'accento finale che fa paura però è tanto tanto vero nel caso di Natalia Ginzburg. E poi, come ho detto, ho raccontato poco fa così in chiacchiere più o meno private, mi ha fatto in particolare un grande regalo lei con un saggio, un breve saggio dedicato alla vecchiaia e lei ha scritto quando aveva pochi anni, almeno dal mio punto di vista, molto pochi. E mi ha fatto il grande dono di spiegarmi che forse non sono ancora così vecchia, perché lei racconta che la vecchiaia arriva quando smetti di esercitare lo stupore sul mondo. Forse è vero, non lo so, ma non importa. Quello che importa è il regalo che fa alla lettrice o al lettore che si ritrova sulla pagina e pensa, beh, non sono ancora così vecchio, così vecchia. Forse lei l'ha scritto, anzi sono sicura che l'ha fatto un po' apposta per regalare sempre questa sensazione, questa consapevolezza che lo stupore è sinonimo di vita e di sguardo sul mondo. Altre pagine che mi hanno colpito e sulle quali torno con regolarità, e lo dico non per parlare di me, ma veramente per invitarvi a leggerle o rileggerle, e leggerle perché sono il senso del mestiere di scrivere e anche del mestiere di leggere, che è un mestiere non meno che quello di scrivere. Penso all'inverno in Abruzzo, che lei racconta quando è al confino con i suoi figli e con Leone, e al confino racconta la neve, racconta il fatto che non ci sono quattro stagioni ma soltanto due, questa neve che arriva presto, il buio, il buio che diventa grigio, ma nulla di più, e poi conclude dicendo che allora non lo sapeva, vengono privi, ma era la stagione più bella della sua vita. Ecco, anche questo saper guardare in faccia il proprio passato, ripensarlo, è come dire, avvolgere la nostalgia di qualcosa di concreto, è bellissimo, bellissimo, toccante, forte e dolce al tempo stesso. E poi naturalmente il discorso sulle donne, un testo del 1948, in cui ci invita a non cadere nel pozzo, anche se le donne hanno purtroppo questo talento irrefrenabile a volte di affacciarsi un po' tanto e poi di cadere nel pozzo, poi sanno risalire, però lei da una parte riconosce l'inevitabilità di questo nostro cadere nel pozzo e ribadisco siamo nel 1948, non so se definirlo proto-post-femminismo, però questo saggio è saggio sul femminile, sul pozzo, su di noi, bisognerebbe leggerlo almeno una volta alla settimana. Sarebbe un esercizio salutare per tutte noi e ne vedo tante di donne qui che leggono e che veramente invito a stare attenti al pozzo. e poi, e qui finalmente mi taccio, al di là della sua capacità di esplorare, attraversare, coprire, esplorare i generi letterari, non meno strabiliante è, restando dentro il genere classico del romanzo, alla sua capacità di spaziare in una varietà non di genere, di sottogenere che non sembra tale nel romanzo finché non leggiamo i suoi libri. C'è il romanzo storico, il romanzo memoir, il romanzo epistolare, non si fanno più i romanzi epistolari e sono molto difficili da scrivere ed è ancora più difficile scriverli in modo efficace. Scusate ma mi viene sempre in mente uno dei grandi amori della mia vita che è Amos Oz, il quale con la scatola nera ha scritto un altro dei rari romanzi epistolari fenomenali e qui sto pensando a lei e la città e la casa. Quindi io non posso che a questo punto cedere il passo a una delle due, adesso vi dirò quale, con una raccomandazione a tutti i generi umani che sono qui e non solo, quella di leggerla, rileggerla con la sicurezza e il desiderio e la certezza appunto di trovare sempre una grandissima grandissima voce. Una grandissima voce che ha come uno dei suoi tanti leitmotiv e fili rossi il tema della famiglia, quella che oggi definiremo tradizionale, disfunzionale, disfatta, unita, vera, apparente. Beatrice, io so che tu hai qualcosa da raccontarci su quella che è il romanzo iconico di Natalia Ginzburg, il lessico. Grazie. Grazie a te. Beh, vi confesso che quando mi hanno chiesto di venire qui a parlare di Natalia Ginzburg, hanno cercato di indorare la pillola dicendo Sarà una chiacchierata tranquilla, non agitarti. Stanotte ho dormito pochissimo, quindi perdonatemi. È un grande onore, è una grande responsabilità, è una grande gioia essere qui a parlare di Natalia Ginzburg. Il primo incontro con Natalia Ginzburg per me è avvenuto con un evento che sembra una storia inventata. È successo d'estate ed è successo per caso. Era l'estate bellissima del passaggio dalla quinta elementare alla prima media per me, quindi quell'estate dove hai tanta noia davanti a te, tranne nel caso in cui sei un amante dei libri e quindi hai un sacco di spazio in cui dedicarti alla tua attività preferita. Quindi io ero la bambina strana che stava sotto l'ombrellone tutto il tempo a leggere catasse di fumetti e di libri e ricordo che c'era in vacanza al mare questa ragazza più grande che doveva invece andare in terza media e l'estate è il momento in cui si possono creare amicizie che in altre stagioni non si potrebbero mai creare per le strane differenze d'età, ma così è successo. E ricordo che lei era più grande, sapeva fare un sacco di cose, sapeva fischiare, sapeva andare sott'acqua senza tapparsi il naso, cosa che io non ero capace di fare e quindi volevo assolutamente che mi ammirasse, fosse mia amica e lei un po' se ne è approfittata e mi ricordo che è venuta da me con questo libro e mi dice devo fare la scheda per la scuola, te che piace leggere, tieni, leggilo, poi me lo racconti. Ed era Lessico Familiare di Natalia Gisburg e io mi ero sentita stranita perché ho creduto fosse un libro per grandi che non l'avrei capito e forse non l'ho capito, sicuramente non l'ho capito, ma l'ho amato e da quell'estate mi porto dietro due cose, ho imparato ad andare sott'acqua senza tapparmi il naso e ho cominciato a leggere Natalia Gisburg e ho fatto una cosa raccontandovi il mio primo incontro con lei in opposto rispetto a quello che ha fatto lei in Lessico Familiare. Lei si è nascosta ed è rimasta nelle penombre per raccontare la sua famiglia ed è bellissimo quello che dice lei stessa di come ha scritto questo romanzo l'ha scritto velocissima in tre mesi come percorrendo una strada già conosciuta e quando mette in scena la sua famiglia è bellissimo perché diventa è una storia personalissima che affronta un grande spazio di tempo perché siamo nel ventennio, poi passiamo la guerra, la resistenza fino agli anni 50 e appare la sua famiglia di queste persone buffissime, particolari e la prima pagina sta nel cuore a tutti e c'è il padre sulla scena che dice non fate sbrodeghezzi, non fate potacci, non fate perché i figli magari fanno cadere un bicchiere oppure fanno cosa bellissima che si deve fare col pane, intingere, fare la puccia si dice nella mia famiglia, non so, nelle vostre. Affrontando però questa famiglia sua personalissima e anche figure importantissime della storia d'Italia che si infiltra la storia d'Italia nella sua storia personale e ci sono, c'è Turati, c'è la Kulishov, c'è Olivetti, poi Pavese e però tutti questi personaggi sono come se avessero tutti la stessa importanza e lei sempre però sta come testimone, è puro sguardo anche di quello che accade a se stessa lo scrive velocissimamente e con una certa reticenza, sia le cose gioiose come quando si sposa e in una sola frase, ci sposammo, Leone ed io e andammo ad abitare nella casa di via Pallamaggio e basta e anche nel dolore invece, anche quando Leone invece poi viene arrestato e ucciso lo dice con una profonda tenerezza in una frase sola e poi va avanti pur essendo profondamente personale questa storia diventa come una mitologia, quasi e come ogni mitologia diventa universale per tutti quindi credo che rimanga un po' come il romanzo del cuore di molti che leggono Natalia Gisburg perché nelle idiosincrasie di quella famiglia nel loro codice segreto, nelle parole con cui si riconoscono troviamo anche le nostre parole segrete delle nostre famiglie che forse se non avessimo letto Natalia Gisburg credo che non le terremmo così legate nel nostro cuore anzi le odieremmo, sono magari le cose che si ripetono le battute imbarazzanti di nostro padre nostra madre che ripete sempre le stesse storie e invece Natalia ci fa capire che non dobbiamo accorgersi accorgerci troppo tardi quando ormai quelle cose sono perdute di quanto fossero preziose ma se ce ne accorgiamo quando le abbiamo ancora e le possiamo ancora avere è meglio perché altrimenti magari c'è solo un rimorso il rimpianto di non averle godute abbastanza lei però non lo fa percepire mai questo rimpianto e è bellissimo che usi spesso e soprattutto l'imperfetto perché credo che come modo iterativo sia la sua intenzione di rendere queste persone che ha amato il padre, la madre, i fratelli poi è bellissimo che lei sia la più piccola della famiglia e usa l'imperfetto credo per rendere in un certo senso eterno ogni gesto di ogni membro della sua famiglia e non però in un'eternità alla sisifo ma in un'eternità invece fruttificante perché quei gesti sono per loro la loro essenza quello che sono sempre stati e è bellissimo scusate vi cito anch'io rolla tutto io torturo tutti i miei libri con orecchie e segni in pennarello in penna non odiatemi noi siamo cinque fratelli abitiamo in città diverse alcuni di noi stanno all'estero e non ci scriviamo spesso quando ci incontriamo possiamo essere l'uno con l'altro indifferenti o distratti ma basta fra noi una parola basta una parola una frase una di quelle frasi antiche sentite ripetute infinite volte nel tempo della nostra infanzia ci basta dire non siamo venuti a Bergamo per fare campagna o de cosa spussa l'acido solforico per ritrovare a un tratto i nostri antichi rapporti e la nostra infanzia e giovinezza legata indissolubilmente a quelle frasi a quelle parole una di quelle frasi o parole ci farebbe riconoscere l'uno con l'altro noi fratelli nel buio di una grotta farà milioni di persone è bellissimo e rispetto a prima citavi il discorso sulle donne che se volete recuperare è i racconti delle donne curato da Anna Elena Benini da poco editato e l'ho letto di recente e l'ho amato e c'è il discorso di noi donne che abbiamo questa condanna di a volte cadere nel pozzo e anche lei ammette di cadere nel pozzo e di cercare di non farlo perché altrimenti non riesci a combinare niente se ti lasci andare alla malinconia e Anna Elena Benini dice nel commento poi di il discorso delle donne che Natalia ha come nucleo la chiarezza del vero ed è una cosa bellissima e credo profondamente vera di Natalia e io l'ho incontrata appunto per prima con il lessico familiare ma non credo nell'amore a prima vista e infatti in realtà mi sono innamorata di lei con altre cose che ho letto successivamente e di mi sono innamorata di lei come interpreta la propria scrittura perché allora vi leggo altre due cose sarò veloce promesso però ho letto l'avvertenza che mette all'inizio di questo romanzo bellissimo Le voci della sera perché lei è bravissima a fare intrecci familiari sempre sia quando ricorda sia quando inventa e qui nell'avvertenza che di solito è fatti cose persone sono puramente casuali e lei la rigira dice in questo racconto i luoghi e i personaggi sono immaginari gli uni non si trovano sulla carta geografica gli altri non vivono né sono mai vissuti in nessuna parte del mondo e mi dispiace dirlo avendoli amati come fossero veri e perché scrive credo che questa cosa arrivi profondissima perché ti innamori dei tuoi personaggi ti stanno a cuore e anche quando li tratti male perché un po' ci divertiamo a trattarli male i personaggi altrimenti non sarebbe divertente se fossero solo intorno a una tavola a chiacchierare ma a volte possono farlo altro altro testo che mi ha fatto innamorare di Natalia Gisburg sta nelle piccole virtù ed è il mio mestiere e lì lei poi ce lo racconterà meglio quindi vi dico solo che a un certo punto dice analizzando anche la sua scrittura negli anni le poesie che scriveva da bambina che in realtà erano più preziosi di quelle che scriveva da adolescente quando cominciava a trovare invece parole difficili a tutti i costi ed è una fase che attraversiamo tutti quando a tutti i costi vogliamo scrivere e poi dice uno dei più grandi pericoli per lei nella scrittura è il rischio di distrarsi perché a volte le capita di distrarsi e di mettersi a cantare è un rischio e lì mi sono innamorata di lei quando ho capito che avrei tanto ho voluto conoscerla anche per questo solo per poter cantare insieme a lei che dice di sé di essere stonata e quindi adesso passo la parola grazie è bello sentire parlare di Natalia Ginzburg da parte di una scrittrice ma anche da parte di una persona che per ragioni puramente generazionali ne parla e la legge da una certa distanza ora ovviamente non è il caso di Lisa Ginzburg scrittrice e molto vicina a Natalia per ragioni infamiliari ti ascoltiamo grazie è molto emozionante essere al circolo dei lettori in questo luogo meraviglioso e ringrazio molto Elena Levental dell'invito vorrei dire poche cose attenendomi a due parole che sono la prima è stata evocata ed è la parola voce penso che pochi scrittori abbiano una voce così argentina e riconoscibile e udibile come il caso di mia nonna è una voce inconfondibile è una voce immediatamente autentica vera sempre vera sempre viva sempre viva ma non solo nel giusto aggettivo immortale che Elena evocava e che non bisogna avere paura a dire sono d'accordo ma viva nel senso che è vivida nel mentre è scritta e tutto è visibile tutto è ascoltabile nel mentre lo leggiamo e non trovo che sia una cosa così frequente la sua voce è ancora nelle mie orecchie stasera c'è anche mia sorella Silvia forse anche lei ancora ascoltiamo questo timbro e anche questo non succede sempre ma proprio anche la sua voce come sonorità è sempre nelle orecchie il teatro stasera andrò a vedere andremo a vedere la rappresentazione la regia di Nanni Moretti non l'ho ancora visto sono molto curiosa ma il teatro di Natalia è anche qualcosa di cui si può dire si potrebbe dire molto che è molto a che fare con la voce lei ci è arrivata tardi ha cominciato a scrivere commedie tardi e anche lì non appena le si legge si è contagiati da questo grande divertimento che immagino lei provava nello scriverle ma anche l'assoluta vividezza e freschezza di questi personaggi e delle parole che lei riesce a mettere loro così in bocca a far dire e allora il parlato è come se arrivi sotto forma di teatro tardi diciamo cronologicamente lungo il filo del suo lavoro ma è come se sottotraccia ci fosse sempre anche in lessico familiare c'è tanto il parlato il rompe ed è così potente è così sonoro è così voce io nel 99 lei era morta da otto anni insieme a Cesare Garbo gli abbiamo curato un libro che si intitola È difficile parlare di sé era una lunga intervista radiofonica che Natalia aveva dato a Radio 3 e ho quindi ascoltato a molto a lungo questa voce registrata mi sono occupata io di sbobbinare quello che si dice sbobbinare cioè trascrivere il parlato radiofonico e quindi questa alternanza di silenzio e voce di cui anche tu Elena dicevi l'ho come riascoltata proprio nella cuffia mentre trascrivevo e sentivo quanto questa freschezza della sua voce fosse anche un rapporto col silenzio molto molto profondo c'era un senso della vita così vero e autentico che conosceva l'importanza del tacere del parlare di quanto il dolore la gioia ma tutto si coltiva e sedimenta anche nel silenzio e l'altra parola che ha una stessa etimologia di voce ed è vocazione e io penso che sia importantissima oggi è un caso ma esce un mio libro esce proprio oggi e io sono molto emozionata e penso che lei sarebbe stata contenta ma non lo dico per parlare di me lo dico perché grazie penso che era molto contenta quando le persone incontravano la loro voce dove per voce qui intendo strada per esempio mia sorella Silvia stasera è qui è una importante storica dell'arte e credo che nostra nonna fosse contenta quando ognuno di noi posso dirlo di tutti noi familiari incontrava se nella strada del lavoro era qualcosa per cui aveva un grande rispetto il lavoro ma anche che cosa fosse l'incontro con se stessi nel lavoro lo aveva per tutti i mestieri l'ho ascoltata commentare e anche tacere con quel suo corruccio con quel suo viso corrucciato che si vede in certe fotografie noi che l'abbiamo avuta molto vicina ricordiamo sempre di quando stava pensando a qualcosa che per lei è di molto importante quando qualcuno incontrava un lavoro che amava l'era contenta e aveva veramente un sacro rispetto per questo e questo la rendeva molto giusta anche nei rapporti umani anche con classi sociali diverse cosa che non era non è così scontata quando anche si diventa uno scrittore famoso ma anche le dava un senso del lavoro molto sano molto sano il testo che Beatrice Salvioni evocava il mio mestiere in effetti per me come per molto tempo aspirante scrittrice ora diciamo scrittrice un testo un testo chiave come Elena Leventhal diceva del testo del pozzo per me è il mio mestiere penso che l'ho letto forse so 80 volte continuerò a leggerlo consiglio a tutti qualsiasi lavoro facciate di leggere questo testo e leggerlo anche periodicamente perché trovo che sia un testo che dà l'amore per il proprio lavoro qualsiasi lavoro si faccia è un testo che io proprio amo oltre misura e la cosa anche straordinaria è che Natalia lo ha scritto nel 1949 quindi molto presto la sua vocazione le era molto chiara e le era molto chiara già nella sua storia perché già da bambina quando sotto il tavolo ascoltava queste conversazioni della famiglia in qualche modo è come se già le memorizzasse dentro sé e le avrebbe scritte quasi già lo sapeva e in quella forma così straordinariamente leggera e autentica e vera che è stata però anche è un testo molto precoce in termini di consapevolezza di sé perché nel 49 ha scritto la strada che va in città e ha scritto è stato così e ancora non è così nota però le sono già successe tante cose e e lei le dice a proposito di donne e uomini tra le altre cose racconta di come fino a un certo punto ha desiderato scrivere come un uomo e poi invece le succede di diventare madre e allora capisce che ha imparato così tante cose nella maternità che non le importa più di scrivere come un uomo ma anche è un testo importantissimo perché ad esempio lei spiega di come si senta in esilio da sé quando non scrive e ultimamente io conduco dei laboratori di scrittura e cito spessissimo la famosa frase di Anna Maria Ortese scrivere è cercare la calma scrivere è tornare a casa ma in realtà Natalia aveva precorso questa idea perché dice più volte io mi sento in esilio quando non scrivo non dice mi sento a casa però dice mi sento in esilio e questa è una espressione bellissima per di più detta in quell'anno nel 49 dove il dolore della perdita di Leone Ginzburg suo marito è ancora così recente e dove la sua vita anche materiale è ancora così difficile e poi l'altra cosa e anche io volevo leggervi un passo un piccolo passo da il mio mestiere che io trovo particolarmente meraviglioso e dice nell'epoca in cui scrivevo i miei racconti brevi con il gusto dei personaggi ben trovati e dei particolari minuziosi in quell'epoca ho visto una volta passare per strada un carretto con sopra uno specchio un grande specchio dalla cornice dorata vi era riflesso il cielo verde della sera e io mi sono fermata a guardarlo mentre passava con una grande felicità e il senso che avveniva qualcosa di importante mi sentivo molto felice anche prima di vedere lo specchio e a un tratto mi era sembrato che passasse l'immagine della mia felicità stessa lo specchio verde e splendente nella sua cornice dorata per molto tempo ho pensato che l'avrei messo in qualche racconto per molto tempo ricordare il carretto con sopra lo specchio mi dava voglia di scrivere ma non mi è mai riuscito di metterlo in nessun luogo e a un certo punto mi sono accorta che era morto in me e tuttavia è stato molto importante lo specchio sul carretto mi è sembrato mi offrisse delle possibilità nuove forse la facoltà di guardare una realtà più gloriosa e splendente una realtà più felice che non richiedeva minuziose descrizioni e trovate astute ma poteva attuarsi in un'immagine risplendente e felice e questo passo ancora per un'altra evocazione letteraria e lo trovo meraviglioso anche perché Stendhal nel Rosso e Nero nel capitolo 19 sono andata a rivedere da del romanzo una delle definizioni più belle del mondo perché dice che scrivere un romanzo è camminare con uno specchietto in mano e poi disquisisce perché c'è il cielo e ci sono le pozzanghere ma la cosa stupenda è questo specchio questa idea che amare uno specchio vedere passare uno specchio e aver voglia di scrivere è veramente l'essenza di una grande romanziera quale è stata nostra nonna grazie grazie Beatrice grazie Elisa mi veniva in mente di aggiungere una cosa a margine che mi dà spazio per invitarvi a venire a seguire anche l'ultimo degli incontri previsti per questo ciclo troppo breve su Natalia ci lavoreremo ancora che è quello sul mestiere editoriale perché scrivere per lei ha significato anche scrivere per altri o come dire leggere gli altri in una postura che è quella del lavoro editoriale che ha fatto che ha fatto per tanti tanti anni regalando a lettrici e lettori tanti altri autori non dimentichiamo questo e di questo si parlerà nel prossimo incontro cito ancora brevemente dalla prefazione di Cesare Garboli comunque soprattutto dal legame di amicizia che aveva con lei quello che scrive nella prefazione è qualcosa che va ben al di là dell'introduzione accademica sulla sua la capacità di Natalia di cogliere il senso dei cambiamenti la sua scrittura non è mai fissa è sempre attenta al mondo ma soprattutto attenta al al proprio ritmo di scrittura e al lettore che ha di fronte c'è sempre in questo una sua grande e rara generosità e poi questo tema della famiglia del vivere più che della famiglia del vivere insieme i suoi romanzi sono sempre molto come dire collettivi nel senso molto sociali c'è sempre un misurarsi insieme o magari per per bisticciare per 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 contrastarsi a vicenda ma sono sempre romanzi in cui la misura sociale dell'umanità è sempre essenziale presente direi centrale vi chiederei se avete qualcosa da aggiungere a questo a qualunque altro proposito io volevo solo dire una cosa che mi ha fatto molto sorridere ho visto un'intervista su youtube ce ne sono alcune un'intervista che hanno fatto a Natalia nel 63 quando era uscito lessico familiare e l'intervistatore le chiede dopo averle fatto parlare del libro quindi adesso ha intenzione di scrivere qualcos'altro e lì dice al momento non sto scrivendo nulla e le chiedono cosa fa quando non scrive lei dice non faccio niente ridendo ed è bellissimo da quello si capisce tantissimo che persona splendida doveva essere di scrivere di scrivere di scrivere